A Papperoi Web! Chi dici? Shazam! Ok. Ammalignati, YouTubati, eccetera, eccetera. Vi avevo promesso un vlog dall'ospedale. Ho anche provato a farlo. Il problema è che sarebbe venuta una cosa del genere. Ammalignati, YouTubati, se è male, se è tutto. Ammalignati, tutti i giorni, è stata dura la fatta. Quindi, ho evitato, in quanto sarebbe venuto abbastanza fastidioso. Comunque, ho detto, ho promesso un vlog di 600 iscritti e lo faccio, nonostante mi ero ripromesso di non fare video fino al 18. Che poi, a proposito di iscritti, ho notato che le visualizzazioni superano gli iscritti. E mi chiedo che vi costa cliccare qui, 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 qui. Bah, comunque. Di che parlo? Me l'avete chiesto in tanti, vi spiego che cazzo mi è successo. Per farla breve, ho cercato un video su YouTube che riassuma bene o male come mi sono fatto male alla gamba, ed eccolo. Chezzo di merda! La gamba! Passato! Ehi ragazzi, Gesù sta guidando gli iTunes! Che merda! Sì, le circostanze erano un po' diverse, non ero esattamente ad octagon, però più o meno è stata quella la dinamica. Poi sono stato la bellezza di dieci giorni in queste condizioni. Sì, per farlo sgonfiare. Volevi fare malissimo! E dopo mi hanno operato mettendomi due placche di metallo. Sì, gli arcii di revolveri, ma Gesù continua a copiare i iTunes! E dopo la bellezza di dieci a sette giorni, rieccomi a casa a fare questo vlog senza senso, ma Gesù è una persona di parola. E niente, detto questo, che dirvi, il vlog l'ho fatto, vi ho levati dalla mia coscienza. Ci vediamo il giorno 18. Ci vediamo il giorno 18.